hey hey ciao ragazzi sono di nuovo io simobrix e oggi in questo video vi voglio presentare un nuovo mock ed eccolo come avete capito è un taglia erba ecco qua vedete davanti un peso dopo vi farò vedere a cosa serve il peso le luci che sono posizionabili tutte tutte le direzioni di sotto specie specchiati una semplice sedia con volante e qua dietro abbiamo il porta erba falciata che si può comodamente staccare e può il taglia erba può diventare un piccolo trattorino ma a parte questo riattachiamo il nostro serbatoio per l'erba che vedete se lo apriamo c'è dentro l'erba ok sono piccoli stato verdi ma fanno loro bene il dovere quasi stacchiamo il peso vedete che una c'è un eccessivo peso quindi meglio da riattaccare i pesi ora che siamo qua sotto vi faccio vedere che questo serve più meno la lama è regolabile ok ma ovviamente non potete andare in giro così perché sarebbe assurdo meglio tenerlo a livello della terra e andare in giro a parte la mia sig fig vediamo un altro simpatico personaggio da che guida questo tattorino parlando di piccolo e tenero eccolo qua il nostro amico per questo video è tutto alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti